Donatrini, avete visto Maria Luisa? Ah no, in effetti dovrebbe essere già qui, ma non tarderà. Ci sono quasi tutti i residenti del palazzo. Sono ansiosi di scoprire se se gli avrà il coraggio di resinteressi. Sì, basta. La sartoriamo, è certo. Ma cosa avete, Susanna? Voi che siete tanto devota, non amatevi, credo. Ma che qualcuno sia felice di stare con voi, sarà perché è chiuso in una gabbia. È un animale molto affettoso. Sono lieto che tu sia qui. Speravo di aver toccato la famiglia al mio fianco. È un casete. È un becco di saponore. Ma no, Susanna, cosa dite? Serviti da bene, fratello. In fine conti siamo una festa. Mi sembra deturbato da una mamma. Pensavo al povero Ophelip, certo. Ma sono convinto che presto farà il ritorno in Spagna. È precisamente questo che ti preoccupa. Rientrerà prima di essersi ripreso dall'incidente, ferito e senza l'energia per affrontare questa situazione. Speriamo che recuperi presto la saluta.